Qualcuno ha il video della ragazza stuprata a Palermo? Chi ha il video di Palermo? Lo scambio bene! Mentre vanno avanti gli interrogatori del gruppo di ragazzi accusati dello stupro della 19enne al fuoritalico di Palermo, l'orrore si esposta anche sui social network e in particolare su Telegram, dove è iniziata da giorni la caccia al video della violenza sessuale di gruppo. Ci sono chat con decine di migliaia di iscritti, pronti a ricevere, inoltrare e scambiare il video dello stupro. Gruppi che esplicitamente fanno riferimento all'episodio a partire dall'immagine di copertina, con il frame del video di sorveglianza che il 7 luglio ha ripreso i sette ragazzi mentre trascinano la vittima poco prima che avvenisse la violenza. Una caccia al video inquietante, la cui diffusione è grave e illegale anche per chi in buona fede vuole denunciare il vergognoso atto di violenza di gruppo. Diffondere contenuti che riguardano fatti illeciti non è consentito, il nostro ordinamento non lo consente, integra fatti specie di reato diverse, non solo per chi condivide e pubblica ma anche per chi per esempio inoltre a volte non sapendo che con questa azione commette anche lui quel tipo di reato. Questo tipo di azioni in qualche modo coinvolgono nuovamente la vittima, le arrecano nuovamente dolore. Chat specifiche ma anche profili falsi, intestati agli stessi accusati, probabilmente da amici che cercano di difenderli e scaggiornarli dalle accuse. Il refrain è sempre lo stesso, lei ci stava, lei era una facile. La falsificazione, la denigrazione e l'umiliazione della vittima per discolpare la violenza del branco.